Allora ragazzi, fra un quarto d'ora nel privé suona Massimino. Calma. Fra un quarto d'ora Massimino Limpoli suonerà nel privé con noi. Intanto è arrivato anche Cirillo e si sta... Calma. Si sta preparando a suonare dall'uomo e non Frankfurt. Mister Mocha DJ! Grazie al nostro corso d'ora! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.